Buongiorno a tutti, oggi vorrei occuparmi di una questione della quale si parla spesso in Italia, ovvero che i paesi del nord Europa, come l'Olanda, la Danimarca e soprattutto la Germania, non sono solidali nei confronti del sud e in particolar modo dell'Italia, in occasione di determinate crisi particolari, come quella del coronavirus o dei migranti. Ve lo dico subito, il nord non odia il sud. Gli italiani sono visti in nord Europa con simpatia e ammirazione. Tutto quello che è italiano piace moltissimo, piace il nostro stile di vita, piace la nostra cultura, il nostro cibo, il nostro modo di essere. Al nord Europa si mangia italiano, si veste italiano e molto spesso si parla italiano. Anzi, spesso in questi paesi essere italiani è un vantaggio sia professionalmente che nella vita di tutti i giorni. Ma allora perché in occasione di crisi molto gravi il nord Europa non ci mostra questa solidarietà? I motivi sono principalmente due, uno economico e l'altro politico. Vabbè, poi c'è anche qualche pregiudizio culturale sulla nostra cultura del furbetto, ma quello che conta è ben altro. Ci sono delle ragioni obiettive per le quali i paesi del nord Europa vogliono tenere le distanze con la spesa pubblica di quelli del sud Europa e con l'Italia in primis. Ecco ad esempio l'opposizione agli euro bond. Ma cosa sono questi euro bond? Sarebbero titoli di debito tramite i quali tutti i paesi membri dell'eurozona sarebbero responsabili in maniera congiunta. Insomma, in parole semplici, se uno stato non riuscisse a ripagare il proprio debito contratto emettendo euro bond, non sarebbe solo un suo problema, bensì un problema di tutti i paesi dell'eurozona. Ecco che i paesi del nord Europa sono terrorizzati all'idea di questo debito comune perché non vorrebbero trovarsi nella circostanza di dover far pagare più tasse ai propri cittadini per pagare il debito contratto dai paesi del sud. Cifre alla mano secondo dati in possesso della Commissione Europea. Leggo. L'Italia nel 2018 aveva un debito pubblico del 134.8%, mentre il debito della Germania ammontava al 61.9% e quello dei paesi bassi al 42.4%. Oltre a questo ci sono tutta una serie di riforme strutturali che i paesi del nord hanno già intrapreso, non con pochi sacrifici, che mirano a limitare un ulteriore indebitamento pubblico. Pensiamo ad esempio al mondo del lavoro, alle pensioni, all'eliminazione di tanti sprechi e alla riscossione delle tasse. Lo sappiamo benissimo, l'evasione fiscale è un tasto molto dolente per l'Italia. Secondo uno studio commissionato dal gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo all'Università University of London del Regno Unito, l'Italia è prima in Europa, dati 2019, per quanto riguarda l'evasione fiscale in termini assoluti dell'IVA. E parliamo solo dell'IVA, senza considerare l'evasione fiscale delle tasse in senso lato. Il secondo motivo è tutto politico. Non sempre la nostra classe politica si distingue in Europa, Bruxelles, per competenza e reputazione. E poi c'è la tenuta dei governi, una cosa che in Europa conta molto, perché ne va di mezzo la credibilità di un paese. Negli ultimi vent'anni in Italia ci sono stati nove presidenti del Consiglio e undici governi, mentre in Germania solo due cancellieri federali e cinque governi. Nei Paesi Bassi tre ministri presidenti e cinque governi. Insomma, al nord si chiedono, ma come possiamo fidarci delle promesse fatte da un governo oggi, se questo governo magari non sarà più là domani per farle rispettare nel proprio paese? Insomma, non si può obbligare qualcuno o un paese intero ad essere solidale. Ed è vero che in Europa, come nel resto del mondo, ci sono culture, diciamo, più calde, più empatiche, come quella italiana, e altre invece più fredde, più astere. Ma per vincere le reticenze, a ricevere solidarietà in determinati momenti, da quei paesi appunto più freddi, più austeri, potremmo iniziare a meritarcela questa fiducia. E per questo, in Europa, a Bruxelles, avere una spesa pubblica e una classe politica più responsabili sono fattori fondamentali. Grazie.